Siamo arrivati a un chiuschetto nei paraggi, c'è il signore del pane e fa un casino esagerato per sti cosi, vedi? Non so se si rende l'idea, sono dei pezzetti di pane, dicono, con 220 yen, poi un euro, diciamo che li amano, ma qualcosa in più, guardate che fila che c'è. E Dario sta laggiù, come il povero, il povero in fila abbiamo messo, ok.